Grandissimo Giulietto, grandissimo, che vittoria, veramente perfetto, perfetto in ogni cosa, perfetto ovviamente ad andare in fuga, fuga nella quale c'era anche, tra gli altri, alla Philippe, che proprio con Ciccone se ne va praticamente, no, ad un certo punto, sulla penultima salita, sì, perché considerando anche l'ultima, che è di 2 km, ma di prima categoria, pendenze estreme, la penultima salita è quella di 7-8 km, se non vado errato, sì, in cui se ne vanno appunto dalla fuga Ciccone e alla Philippe, poi avevamo anche Tich Beno, Castrovieco, che è partito dal gruppo, dal gruppo Maglia Gialla, ed è andato a riprendere appunto la fuga, avevamo anche un altro corridore, non ricordo qui, insomma, però vabbè, Giulio Ciccone va a prendersi, l'ottava e ultima tappa del giro del Delfinato, e si va a prendere anche la Maglia Poire, quindi di miglioro scalatore, veramente un buon auspicio in vista del Tour de France, lui, se non vado errato, non ha mai vinto ancora una tappa al Tour, ha indossato sì la Maglia Gialla, ma non ha mai vinto la tappa al Tour, l'obiettivo deve essere quello, poi la classifica, ok, con i big che ci sono è veramente tosto curare la classifica, è veramente tosta, però, man mano, insomma, l'appetito viene mangiando, come si dice, quindi pian piano potrebbe aumentare l'appetito, quindi saremo a vedere, però, secondo me, l'obiettivo di Ciccone appunto è tappa, tappa al Tour de France, e non dovrebbe nemmeno essere al picco della forma, perché se fosse al picco ora sarebbe un errore, ovviamente, quindi spero che non sia al picco, ma credo di no, credo di no, però spero di non essere smentito, tuttavia, qualora il picco di forma arrivasse poi al Tour, potremmo divertirci, e potremmo divertirci. Buona serata a tutti, anzi, buon pomeriggio, buona domenica, quello che volete, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, su questo Giro del Delfinato, oggi inizia anche il Giro di Svizzera, con Evenepul, non ci sarà Primoz Roglic, che in teoria sarebbe dovuto esserci, ma ci sarà, non ci sarà lui, ci sarà Evenepul, quindi, che rientra dopo il ritiro, no, ricordiamo tutti, al Giro d'Italia, e però si conclude questo Giro del Delfinato, oggi, con questo splendido arrivo in salita, ma una tappa comunque di 153 chilometri, tante salite, 4000 metri di slivello in 153 chilometri, non sono pochi, anzi, tutt'altro, salita discesa, salita discesa, insomma, non un attimo di pianura, poi il finale, con queste salite, praticamente, una dietro l'altra, all category, il Granier, poi avevamo il Cuceron, di seconda categoria, poi il Col Deporté, prima categoria, poi lunga discesa di all'incirca 13-14 chilometri, e l'ultimo strappo per arrivare alla Bastille, alla Bastille, siamo nella zona, appunto, di Grenoble, questo 1,8 chilometro con pendenza media quasi del 15%, rampe al 24-25, ma l'ultimo tornante, insomma, impressionante, cioè, non so quanto fosse la pendenza, ma credo più vicino al 30 che al 20, quindi, un grandissimo finale, dovevi avere comunque un certo margine di vantaggio per poter arrivare, dovevi avere comunque le gambe, anche se è 1,8 chilometro, ma è un chilometro e 8 che dura veramente tanto, quindi le gambe le devi avere, e Ciccone le ha avute, era fresco, ha capito ad un certo punto, sul Col Deport, o Deporté, non so come si dica, Deport forse, che Alaphilippe stava faticando, dà un ultimo cambio Alaphilippe, però poi Ciccone se ne va e Alaphilippe nemmeno reagisce, infatti poi il francese verrà riassorbito e arriverà con due minuti circa di ritardo rispetto proprio a Ciccone, che va su con il passo suo, un passo comunque leggero, agile, non esita però quando serve ad alzarsi sui pedali allo stesso tempo, ma lo vedi anche in faccia, anche se non si può dire molto insomma dalle espressioni visive, ci sono, cioè, dalle espressioni facciali, cosa ho detto, le espressioni visive, vabbè, ci sono dei corridori che non lasciano trasparire praticamente nulla, sembrano freschi e poi in realtà sono in difficoltà, quindi come si dice in gergo bleffano, Ciccone, Ciccone invece va, cioè lo vedi, super concentrato, non boccheggia più di tanto, solo negli ultimi, negli ultimi centinaia di metri, un po' di più, ma non boccheggia più di tanto, va con il passo suo, cadenza regolare, ripeto, quindi decide di partire, scollina con una trentina di secondi di vantaggio su Pedrero della Movistar, che nel frattempo era scattato dal gruppetto, maia gialla, con una bella fiondata, e lì ho temuto che potesse ripernerlo a Ciccone, anche se insomma ha fatto quello sprint Pedrero, insomma, per uscire dal gruppo e poi, non dico che si è piantato, ma comunque ha rallentato la propria azione. Il gruppetto dietro scollina con una quarantina sempre di secondi di vantaggio, 40-30 secondi, in discesa poi guadagna Ciccone, sia su Pedrero, sia sul gruppo maia gialla, che è ridotto ovviamente a non molti uomini, e rischia anche un pochino Ciccone, in una curva veramente ha fatto il pelo lì alla ringhiera, al battistrada, si arriva ai piedi dell'ultima salita, la attacca veramente bene, devi stare attento, insomma, a gestire bene quella salita, perché la seconda parte ti crepa, altrimenti. È stato bravo Ciccone, si temeva ad un certo punto che da dietro potessero, a causa, insomma, della bagarre, potessero rientrare. Un Vingegaard di turno che scatta, anche se non ne ha bisogno perché il giro è praticamente in tasca, cioè controlla il più forte, gli altri capiscono che non puoi farci praticamente nulla, a meno di un qualcosa di clamoroso, di un evento, di un episodio, cadute, eccetera, eccetera, che facciamo sempre le corna, ovviamente. Non è accaduto niente di tutto ciò e quindi Vingegaard si va a prendere il delfinato, ma decide comunque di attaccare nel finale. E attaccare recupera una trentina di secondi a Ciccone, ma non ce la fa, arriva a poco meno appunto di 25 secondi, se non vado errato, proprio dallo stesso Ciccone che quindi, in solitaria, si va a prendere questo arrivo. Felicissimo lui, anche perché conquista con questo ultimo Gran Premio, proprio all'arrivo, all'ultimo praticamente, di prima categoria, si va a prendere anche la maglia a puà del miglior scalatore. Perché la tappa di oggi, insomma, è stata fondamentale per questo, per la conquista. Di questa maglia. E quindi, bravissimo Ciccone, ripeto, non faccio proclami nulla perché siamo abituati, spesso siamo rimasti anche un po' così, un po' delusi da Ciccone in generale, nella sua carriera fino ad ora. Quindi, non dico altro, però, se il picco di forma arriverà al tour, obiettivo tappa, insomma, dai, dai. Vingegaard ha dimostrato ancora una volta oggi la propria superpazia, come se ce ne fosse bisogno, e si va a prendere quindi questo giro del delfinato, mannaggia le pubblicità un'altra volta, veramente le pubblicità sono ovunque ormai, è impossibile vedere un sito, una cosa. Vingegaard con 2,23 di vantaggio su Adam Yates, 2,56 su un grandissimo, secondo me. Ben O'Connor, Giai Indley, quarta posizione, a 3,16. Jack Hague, Guillaume Martin, Menties, Troen, Carlos Rodriguez e Giuliano Lafilippe, con Giulio Ciccone che recupera 5 posizioni, Giuliano Lafilippe a decimo, a 5,37, Ciccone a 5,43. Peccato, ecco, per pochissimi secondi non riesce a riconquistare, insomma, una top ten, però poco importa. Poco importa, tappa e Maya Pua, grandissimo Ciccone e grande Vingegaard che ha dominato questo giro del delfinato. Ripeto, oggi però, cioè, non ci si ferma perché è iniziato oggi, o meglio, inizia oggi perché ancora non arrivano, nel momento in cui sto registrando il video, cronometro, tra l'altro oggi, giro di Svizzera, inizia quindi questo Tour de Suisse 2023 e poi ci si avvicinerà quindi al Tour de France. Buona serata a tutti, anzi, buon proseguimento a tutti di giornata, al prossimo video. E forza azzurri!